Mario porta il figlio Carletto in piscina all'agriturismo Le Cappannacce. Ad un certo punto Mario si gira. Carletto, non fare la pipì in piscina. Papà, ma la fanno tutti. Ho capito, ma non dal trampolino, su. Vi aspetto sabato santo per la colazione di Pasqua all'agriturismo Le Cappannacce. Portate il costume perché c'è la piscina riscaldata. Piuttosto, avete fatto la prova costume? Io l'ho fatta, si asciuga. Ciao!